In questo momento storico di immensa importanza politica, l'ideologia avrebbe bisogno di sgombrare il dubbio da posizioni equivoche in favore del conflitto. E' questo che chiede la comunità ucraina in merito all'esibizione di Alexander Romanowski al Teatro Piccini di Bari. Siamo contrari che l'amministrazione non faccia un più approfondito riscontro delle persone che vanno a calcare il palco del Teatro Piccini e ci piacerebbe che questa personalità si esprimesse un po' più direttamente sulle sue partecipazioni ad eventi davanti a teatri bombardati. Non credete che l'arte debba essere scevra da ogni polemica e coinvolgimento politico? Siamo molto d'accordo, per questo vorremmo avanzare questa domanda a Romanowski chiedendogli della sua collaborazione nel 2023 con il Cremlino e chiedendogli una spiegazione per quanto riguarda il film prodotto assieme a una nazione ritenuta dall'Unione Europea sponsor del terrorismo. Abbiamo anche raccolto la replica dell'assessore alla cultura Enes Pierucci. Sul web non appare nessuna dichiarazione sia in italiano che in russo di diretta vicinanza alla guerra da parte di questo artista. Non penso che sia necessario censurare l'arte sia russa che ucrania in questo momento. Non ci sono elementi diretti e dichiarazioni dirette, espressioni dirette da parte di persone che poi al contrario potrebbero persino se identificate come terroriste persino probabilmente rivendicare questa tipologia di accusa che non va fatta fino a non avere gli elementi che seppure ci sono io non sono in possesso.